pensiero del giorno ho nove amicizie meravigliose nella mia vita perché sono un buon alleato chiedo ai miei angeli di aiutarmi in ogni settore delle mie relazioni e confido nei legami con i miei vecchi e nuovi amici conosci nuovi amici se ce lo chiedi noi angeli possiamo aiutarti con le tue amicizie sia vecchie sia nuove possiamo sostenerti nelle incomprensioni aiutarti con la comunicazione e fornirti idee per celebrare l'affetto tra te e le persone a cui tieni inoltre siamo anche felici di farti conoscere nuovi amici siccome ti sei evoluto spiritualmente i tuoi rapporti con gli altri potrebbero essere cambiati alcune persone che un tempo consideravi vicine si stanno allontanando e tu sembri avere interessi diversi da alcuni dei tuoi cari ma non avere paura queste transizioni e questi cambiamenti troveranno molto presto un nuovo punto di equilibrio chiedici di aiutarti con le tue amicizie sappi che alcune delle nuove persone che hai conosciuto e che conoscerai presto sono state inviate in risposta alle tue preghiere aspettati di avere rapporti meravigliosi e armoniosi e il risultato sarà inevitabile